11 siamo arrivati all'undici cucù 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 allora eccoci qui pronti ad aprire la porticina numero 11 porticina virtuale del nostro calendario dell'avvento allora domani si arriva al giro di boa cioè al 12 che cosa avrà pensato franci guiz per voi questa volta un altro prodotto della pez vai ovviamente mi sono un pochino diciamo indirizzata verso prodotti che voi non possiate reperire in italia non con facilità comunque e ho preso un bellissimo rossetto uno l'avevo già preso ma questo è un altro di un altro colore ve lo faccio vedere ovviamente non lo swatcho si chiama medison square medison square è un colore meraviglioso tipicamente invernale guardate che meraviglia eccolo qui long lasting eccolo vedete vi faccio vedere è bellissimo ovviamente non lo svocio aspettate un attimo sono andata a prendere la bustina 3 dove avevo messo dove ho messo un altro di questi rossetti per farvi vedere che sono due colori diversi questo è della borsetta 3 e questo è della borsetta 11 vedete questo è molto più scuro anche se la camera non rende grazia ma si può vedere ovviamente svociato si vede ancora di più ma non posso ho scelto due colori comunque scuri invernali molto molto belli molto molto portabili il 160 quello della borsetta 3 è più tendente a sangria questo è più scuro un vinaccia 0 42 medison anche se in camera la differenza è minima vi assicuro che comunque c'è una notevole differenza allora rimettiamo il corso corso como qui perché era il regalo della borsina 3 e il medison square lo vado a mettere ovviamente non svociato nella borsina numero 11 ecco fatto ciao sentite come scricchiolo guarda come dondolo guarda come dondolo con il frac ciao a domani ciao 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 ciao